bene ragazzi ciao amici di fisherlandia e benvenuti a un nuovo video della serie i mulinelli economici non li vuole recensire nessuno ma noi di fisherlandia anche sì oggi vi voglio parlare dell'ocuma scorpio quindi eccolo qua un mulinello frizione anteriore disponibile nelle varie misure che vanno dal 1000 alla taglia 6000 un oggetto chiaramente destinato entry level grazie al suo prezzo ma devo dire un buon rapporto qualità prezzo anche in questo caso offerto dalla casa okuma quindi ora andiamo a vedere da vicino e ci vediamo dopo per le mie considerazioni e consigli finali bene parliamo come di consueto dalla scatola di questo mulinello chiaramente i colori rimangono blu e nero per quanto riguarda la scatola classici colori identificativi di casa okuma la scritta scorpio sp 4000 a è la misura che vi faccio vedere dai lati c'è sempre la solita scritta da questa parte invece sono quelle che sono le nozioni quindi il riassunto di quello che troviamo all'interno del nostro mulinello lo scorpio è un mulinello dotato di quattro cuscinetti più uno ha una velocità di recupero in questa misura di 5 a 1 quindi abbiamo un recupero di centimetri di filo di 76 centimetri di filo ogni qualvolta la nostra manovella fa un giro completo pesa 302 grammi e ha un max drag di 8 kg abbiamo anche qualche riferimento sulla altezza della bobina per aumentare quelle che sono le caratteristiche a punto di lancio un sistema meccanico assolutamente preciso molto fluido questo devo dire la verità e abbiamo anche qualche consiglio qua dove vengono riportati i consigli su quello che sono le quantità di filo che possiamo andare ad operare apriamo la nostra scatola troviamo all'interno eccola qua la nostra bobina di ricambio una semplice bobina in grafite che spesso volentieri troviamo nei mulinelli molto economici abbandonata in quelle che sono invece i mulinelli di fascia medioeconomica nella parte sottostante ve la faccio vedere subito troviamo il nostro cicalino che purtroppo non può essere sostituito a livello di unghietta ma si può essere può essere sostituita chiaramente alla nostra molla la vediamo qua poi vi faccio sentire anche come canta questa bobina troviamo all'interno del nostro della nostra scatola il nostro bugiardino con tutte quelle che sono le istruzioni e i codici per gli spaccati andiamo ad aprire il nostro oggettino togliamo questo primo sacchetto guardate anche col piccolo pluriball bella questa cosa per far sì che la manovella non vada a rovinare l'estetica di questo mulinello che devo dire è un'estetica che mi piace da subito devo dire che ho deciso di prendere oltre a tutta l'immensità di gamma di mulinelli o kuma che abbiamo disponibile ho deciso di prendere questo mulinello quasi esclusivamente perché di primo a chito mi è piaciuto tantissimo il colore questo nero con combinato con questo viola annodizzato molto molto bello vedete che viene riportato sia sul knob in questa parte chiaramente knob non sostituibile molti di voi me lo chiedono in questi mulinelli non è sostituibile abbiamo la parte sotto quindi anche qua una discreta rifinitura spero che si possa vedere in questo caso con nero e annodizzato la bobina che la fa da padrone direi che questo è l'oggetto ve lo faccio vedere anche da questa parte una piccola una piccola premessa la devo fare un mulinello chiaramente di fascia economica si aggira intorno ai 40 50 euro intanto lo giro anche da questa parte troviamo delle caratteristiche sì tecniche interessante è chiaro ed evidente che è un mulinello che si vede essere di quella fascia di prezzo anche per i meno esperti una dischetta bocca di bobina questo 4000 mi piace come è stato appunto calibrato insieme a tutto il resto vediamo subito sotto abbiamo la leva dell'antiritorno infinito vi do subito la mia sensazione nella rotazione devo dire che è una rotazione molto fluida questo dato anche dal meccanismo interno di questo oggetto andiamo un secondo a vedere poi ve lo faccio vedere nel dettaglio questa frizione con una bella grana si sente che è una frizione che è una bella grana assolutamente non ha la guarnizione vedo che no non ha la guarnizione ma ha comunque questa molletta che è quella che fa sì che la nostra farfalla faccia questo suono piuttosto convincente quando andiamo a chiudere l'alberino ma direi non estremamente grosso però proporzionato a quello che deve fare questo 4000 chiaramente sotto il nostro dottore appare la scritta cfr che è questo sistema di oscillazione appunto del nostro mulinello che è quello che poi dà la nostra bobina concetto che ha assolutamente ocuma vi faccio vedere un secondo bene da vicino la nostra bobina che è quella originale diciamo montata subito sul nostro mulinello come vediamo anche da questa parte abbiamo la nostra cicalina in questo caso attenzione vi faccio notare che è sostituibile perché abbiamo una glover che va a chiudere appunto questo perno basta sfilare la glover e ci sarà sicuramente ricambio dedicato anche la nostra cicalina devo dire una bobina fatta molto bene il colore mi piace questo contrapposizione anodizzato viola con questo nero mi piace molto i dischi chiaramente non sono dischi in carbonio ma un max drag di 8 kg sarebbe bello capire anche poi la fluidità una bella lavorazione mentre invece questa è la bobina in grafite con questi spazi forellati una bobina che apparentemente ha lo stesso peso effettivamente questa pesa un pochino meno sentiamo anche suona come suona questa che solitamente ha un suono discreto direi sentiamo questa sicuramente ha un suono più limpido e più assolutamente più un tono molto più convincente come cicalina un archetto chiaramente in due pezzi allarghiamo di nuovo un archetto chiaramente in due pezzi mi piace una cosa che ho trovato in questi mulinelli la molla molto molto dura convincente questa molla è assolutamente anche un po duro però l'ho provato prima su quelli che abbiamo come vedete lo scatto bisogna darci decisi quindi se ci andiamo decisi non abbiamo nessun tipo di problema vedete che però tende a puntarsi un goccino bisogna darci un goccino più decisi su questo anche perché chiaramente i meccanismi interni sono meccanismi basici ma è un mulinello giusto mi piace vite a stella qua sotto abbiamo tutto quello che serve la manetta chiaramente è una manetta passante e direi che qua abbiamo visto tutto facciamo come al solito la nostra prova su quella che è la nostra cicalina e la nostra frizione andiamo a mettere in presa la nostra farfalla bobina libera bobina ancora libera frizione quindi molto lunga come vedete quando poi inizia ad agire inizia a stringere sì perfetto e andiamo a quelli che sono sicuramente non li abbiamo testati ma andiamo sui nostri 8 kg di max drag il peso di questo 4000 è assolutamente affiancato a quelli che sono i competitors del caso quindi direi un mulinello che in tutta sostanza mi sta piacendo andiamo alle nostre considerazioni e consigli finali inutile dire che questi oggetti a me piacciono perché sono mulinelli comunque entry level a livello di spesa che danno possibilità a qualcuno che vuole iniziare di avere già un oggetto di una certa qualità appunto tra le mani può essere sicuramente un oggetto dedicato a quelli che sono le persone che possono avere o volere un mulinello come riserva o come muletto e per un po le più svariate pesche visto che le misure di questo mulinello vanno dal 1000 al 6000 chiaramente un cenno su quelle che sono le misure ve le faccio il 1000 e il 2000 sicuramente vanno bene su una bolognese medio leggera pesca in laghetto pesca in torrente spinning cucchiaino attenzione le misure sono abbastanza vicine tra di loro tra la 1000 e la 2000 poi abbiamo un piccolo stacco abbiamo la 3000 poco più piccola di questa che è la 4000 quindi molto simile anche in quel caso direi il 3000 per quanto riguarda aging spinning medio una bolognese potente una pesca a fondo molto molto leggera come può essere il 4000 spigola inizia qualche serrotto a venirci a fare visita alle nostre esche per qualità per assolutamente tranquillità un mulinello come il 5000 per uno spinning centrale portato un po a quello che può essere lo spinning diciamo di più una pesca a fondo un pochino più impegnativa fino ad arrivare alla taglia 6000 sicuramente un mulinello di potenza un mulinello che non adatterei sicuramente a pesche a spinning molto provanti come ad esempio la pesca sulle mangianze su pesci di un certo tipo chiaramente su tombarelli palamita letterati di piccole di medie dimensioni non abbiamo nessun tipo di problema sicuramente un mulinello che può anche aprire le porte a quella che è la pesca del bolentino mi piace molto l'estetica di questo oggetto vi dicevo il prezzo che varia dei 45 55 euro è assolutamente centrato quindi buon rapporto qualità prezzo direi che in questo mulinello si può godere della tecnologia che le aziende come Okuma come tante altre grosse aziende nel mondo appunto della pesca offrono sui prodotti di più alta gamma inizialmente poi vengono riportate su quelle sotto quello che voglio dire che dieci anni fa ci dimenticavamo 15 anni fa vedere un mulinello del genere era praticamente impossibile se non andarlo a pagare almeno il doppio di quello che costa oggi appunto questo scorpio un mulinello molti di voi me lo chiederanno sul discorso dell'utilizzo del treciato non abbiamo grossi problemi ricordiamoci che questi quattro cuscinetti più uni non sono posizionati sul rullino guida filo che è questo quindi il rullino guida filo gira su boccola una boccola sicuramente Okuma utilizza dei materiali buoni non ha convenienza a mettere materiali e quindi plastici che vanno subito a degradarsi perché creerebbero solo problemi quindi sono sicuro sulla qualità della boccola ma chiaramente come vi dico sempre attenzione l'utilizzo del treciato lo potete fare tranquillamente l'imbobinamento va bene perché è veramente bello ne abbiamo già venduto qualcuno e devo dire che imbobina veramente bene molto preciso quindi suppongo che anche con trecce abbastanza sottili possa andare bene attenzione a una cosa teniamoli sempre 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 lubrificati bene i rullini guida filo qualora girino su boccola ancora di più che se dovessero girare sul cuscinetto chiaramente la boccola da una parte ha le sue caratteristiche limitative su quella che è la rotazione e la fluidità però dall'altra parte la boccola non si pianta quasi mai se non che sia consumata all'inverosimile il cuscinetto invece ci ci propone ci offre una scorrevolezza maggiore ma attenzione perché il cuscinetto è qualcosa che si può inchiodare grippare eccetera eccetera con le varie conseguenze che sono il taglio del guida filo rovinarsi della treccia che costa sicuramente molto di più che un rullino guida filo di ricambio quindi a questo punto devo dire ragazzi che si può utilizzare tranquillamente anche con la treccia senza nessun problema mulinello che per lo spinning per chi vuole iniziare mi piace mi piace davvero tanto quindi a mulinello do un voto pari a otto che potrebbe aumentare fino all'otto e mezzo e anzi ve lo dico tranquillamente perché mi piace molto questo colore l'estetica di questo mulinello devo dire che mi piace questo colore qua mi piace moltissimo e quindi qua è detto tutto chiaramente lo trovate linkato qua sotto il link in descrizione lo trovate disponibile sul nostro sito internet se avete delle domande delle domande fatemele pure qua sotto nei commenti quindi spero che questo video vi abbia fatto piacere continuate a seguirci sui nostri social lo dico un po più con calma questa volta iscrivetevi al nostro canale youtube attivate la campanellina per essere avvisati ogni qualvolta fisherlandia caricherà un nuovo video e seguitici sempre sui nostri social a questo punto io e lo scorpio bello sto mulinello comunque c'è un bello scatto decisi è veramente se ci vai con decisione magari la molla molla un po ma la molla bolla un po gioco di parole ci vediamo la prossima ragazzi grazie per essere stati con noi e ci vediamo e come sempre dico io e lo scorpio che la pesca sta con voi ciao raga ciao